Non si è giudita dall'apparenza, a me è capitato adesso che mi avevano mandato a casa per i capelli verdi mi sono presentata al lavoro e mi avevano detto vai a casa e io posso essere professionale, infatti una che ha i capelli che sia bionda, nera che ha i capelli titta un po' titta un po' esatto, ok, tu invece hai controllato qualcosa, tu invece perché pensi che abbia l'oste lui, abbia l'oste in piedi gentilmente? stessa cosa che ha detto lui, la mia vita privata c'è un pregiudicato di professione vi hanno un po' convinto però, non è che hanno detto, l'ho detto no, secondo me sono stati gentili, educati con la tua motivazione, logica, perché io ho poco tempo ancora, perché io ritengo che invece loro siano in un errore di forma e di sostanza soprattutto perché, per carità, tu hai capelli verdi, vale certamente quanto l'ora, ma qui non si parla del fatto che tu hai capelli verdi dopo due anni che lavorano in un'azienda tu hai capelli verdi il primo giorno tu hai il diritto di essere una persona che in qualche modo ha una sua personalità magari il capello verde fa sorridere, imbarazza, non puoi non saperlo non puoi non pensare che sei l'unica persona che non diverti in questa stanza, questo suostro e quindi in qualche modo che sei risposto al giudizio libera di farlo, ma se vai in un contesto lavorativo, tu, tu e anche altre persone lui, si deve mettere in contatto con quella nuova realtà si mette l'esito, non strafigo, strafiga, stragnoca, col tagliere e quant'altro ma si mette quantomeno avvicinandosi un po' di più all'ambiente se vai a lavorare in una banca con i capelli verdi, pensare con la banca esprime un valore che è anche legato alla filosofia, tu vai all'interno di un posto di lavoro che ha una sua filosofia, una sua cultura, tu non puoi più imporre la tua cultura ed è per questo motivo che abbiamo fatto di assertività tu ti metti in contatto con quella realtà una volta che tu sei in contatto con quella realtà una volta che voi siete arrivati e avete studiato la situazione poi verificate se è il caso di poter fare quello che volete voi